Il comune di Belluno mette in campo tutte le forze e le risorse necessarie per arginare vandalismi, degrado e schiamazzi notturni. È stato studiato un pacchetto tranquillità a garanzia della serenità notturna dei residenti in centro storico. Abbiamo fatto ordinare a Bellunum due fototrappola, ne abbiamo ordinate anche due noi come comune, quindi cominceremo a fare dei controlli serrati anche mediante le fototrappole, non solo tramite la videosorveglianza. coloro che verranno pescati ovviamente non solo verranno sanzionati ma introdurremo anche l'obbligo di ripristino, quindi in sostanza le persone oltre che pagare la multa poi devono pulire loro. Riteniamo che sia importante creare nelle persone che alcune volte in buona fede sporcano, cioè non si rendono conto alcune volte dei danni che stanno provocando. Crediamo che l'idea di provocare la consapevolezza del danno che si crea probabilmente sia la strada giusta. È responsabilizzando che si raggiunge il risultato. Ecco spiegato l'utilizzo delle fototrappole. Dispositivi portatili che possono essere spostati da un luogo all'altro che si attivano con sensori di movimento. Sono gli stessi strumenti utilizzati per catturare le immagini degli orsi. Massaro dice basta. Dobbiamo dare un giro di vite, lo stiamo già dando adesso e vogliamo darlo ulteriormente perché questi atti di degrado, peraltro commessi da poche persone, si tratta di poche decine di persone, è evidente che fanno scontare all'intera città un costo troppo elevato. Ed è massima l'attenzione per l'educazione dei giovani, a cominciare dalle scuole. Stiamo lavorando su più fronti. Da un lato il fronte della prevenzione dell'educazione, quindi stiamo rafforzando i programmi che abbiamo introdotto nelle scuole. Adesso li stiamo ritarando, nelle prossime settimane usciranno alcune novità molto interessanti. Stiamo lavorando a livello di progettazione europea per far sì che possiamo finanziare alcuni progetti, per esempio con l'educativa di strada, che è l'unico elemento che ha dato delle certezze, diciamo di risultato nelle città dove è stato introdotto sperimentalmente un po' di buona educazione, ma è il motivo per il quale noi investiamo soprattutto nella scuola e nell'educazione preventiva. Ovviamente purtroppo i risultati di questa educazione li vediamo dopo 5, 6, 7 anni e noi li vediamo il giorno dopo.